Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMW News, come sempre tanti temi da affrontare, il campionato ma anche le coppe. Andiamo subito a salutare il nostro primo ospite, in collegamento con noi c'è Alessandro Cucciari, ex calciatore di Roma e Lecce tra le altre. Ciao Alessandro, benvenuto! Buonasera a voi. Tante polemiche arbitrali ancora, anche dopo l'apertodito di ieri tra Inter e Genoa, una stagione da dimenticare per gli arbitri? Ma sai, a me non è mai piaciuto discutere sulla classe arbitrale, anche perché purtroppo negli anni si è sempre discusso, ma più o meno gli errori si sono sempre stati. A volte grossolani, a volte meno pungenti, però secondo il mio punto di vista bisognerebbe abbassare un po' tutti i toni. È vero, però ecco l'arbitro oggi con l'introduzione del VAR decide sempre meno, è spersonalizzato, che idea ti sei fatto? Ma guarda, secondo il mio punto di vista il VAR è uno strumento efficace, importante, il problema è sempre l'interpretazione. Possibilmente dovrebbero riguardare un attimino questa autonomia dell'arbitro, perché molto spesso è vero che il VAR aiuta a vedere ciò che l'occhio non riesce a catturare all'istante. E' altrettanto vero che però poi dopo ci sono dei condizionamenti che secondo il mio punto di vista dipende anche un pochettino dal carattere degli arbitri. Quindi dovrebbe essere così com'è, a discrezione dell'arbitro, ma molto spesso questo non avviene, perché c'è un'influenza esterna di più persone che magari dicono guarda, stai sbagliando, guarda è così. Secondo il mio punto di vista è uno strumento importante, ma ha usato male. E cosa pensi invece dell'ipotesi di Rocchi, presidente dell'AIA con Orsato, disegnatore, per la prossima stagione? Sono tutti arbitri che hanno un'esperienza importante, quindi indipendentemente da chi possa essere al comando, io ribadisco che c'è bisogno di un'analisi attenta, di riuscire ad utilizzare questo strumento che è stato messo a disposizione nella maniera più giusta. Non è possibile che con tanti occhi oggi si sbagli ancora così in maniera troppo facile. C'è bisogno di un po' più di coerenza, di attenzione, perché come succedeva in passato, quando non c'era questo strumento, insomma, voglio dire, delle decisioni possono comunque condizionare l'andamento di un campionato. Senti, invece, parlando di campo, il Genoa, visto ieri, continua ad essere una squadra che sta ben impressionando, un girardino che ha confermato di essere un ottimo tecnico, e quindi, insomma, è una squadra che probabilmente si pensava potesse avere qualche difficoltà in più, in realtà gioca bene e ha collezionato anche una serie di partite importanti, punti che in qualche modo possono far stare tranquilla questa squadra. Ma, sai, il girardino da quando è arrivato ha fatto non bene, benissimo. Chiaramente, all'inizio, in partenza, è stata messa a Genoa come una delle squadre che avrebbero dovuto pensare alla salvezza, così come ci mette magari qualche altra. Però, con i fatti, ha dimostrato di essere una squadra capace, una squadra organizzata, una squadra che ha messo in difficoltà più di qualche big e tutto quello che sta facendo lo sta meritando sul campo. Credo che Girardino abbia lavorato molto bene già dallo scorso anno, abbia dato un'impronta importante e adesso sta raccogliendo i frutti. Senti, parlando invece della Roma, sei vittorie su sette per i giallorossi e c'è già l'ipotesi della possibile conferma di De Rossi. Se la merita? Al di là del fatto che se la merita per quello che sta dimostrando con i fatti sul campo e non solo, ha ricompattato uno spogliatoio, è riuscito a dare un gioco che onestamente erano un po' tutti scettici che la Roma potesse avere e io credo che lui meriti la riconferma a prescindere dal discorso campo, che comunque è importante, ma semplicemente per il fatto che nel momento in cui viene fatta una scelta e viene data una svolta, bisogna dar tempo a chi comunque gli si dà questa responsabilità di poter incidere sulla squadra. Lui è riuscito a farlo in poco tempo e quindi secondo me è da riconfermare a prescindere dai risultati che comunque ha dimostrato. Con De Rossi tra gli altri è tornato a brillare anche Pellegrini che sta segnando anche un bel numero di reti. Pellegrini è un giocatore importante al quale è stata data qui a Roma una responsabilità enorme, cioè che è quella del dopo De Rossi, dopo Totti, perché comunque è romano, cresciuto nelle file della Roma, quindi gli è stata data la fascia di capitano e secondo me forse è stata data una responsabilità un po' troppo esagerata rispetto all'età che Pellegrini aveva qualche anno fa. Comunque è sempre stato un gran bel giocatore che ha avuto un'escalation importante, ha avuto le sue difficoltà come tutti i giocatori attraversano dei periodi più o meno buoni, e oggi è tornato ai suoi livelli. Come dicevo, questo fa parte anche del lavoro di cui parlavamo prima, di De Rossi, che è riuscito in qualche modo a tranquillizzare, perché sai, quale è migliore come De Rossi, che è stato un giocatore in campo fino a qualche anno fa, può comunque insegnarti le cose che ha vissuto. E i risultati si stanno vedendo, un grande Pellegrini, credo che abbia influito molto anche la posizione in campo, perché la cosa intelligente che ha fatto De Rossi, secondo il mio punto di vista, è quello di aver riportato un modulo giusto e consono alle caratteristiche dei giocatori a disposizione, su tutti i Pellegrini e il Sciarraui. Da ex leccese invece ti chiedo che cosa pensi del campionato della squadra di D'Aversa, che sembrava ad un certo punto poter disputare una stagione un po' più tranquilla. Ma sai, ecco, tornando al discorso del Genoa, il Lecce era uno di quelle che chiaramente quando parti gli obiettivi sono quelli della salvezza. Il Lecce ha fatto una cosa intelligente, che è quella di sorprendere tutti, partire in maniera sprintosa e ha messo Fiano in cascina all'inizio, punti che poi possono servire chiaramente alla lunga, perché poi i valori chiaramente si livellano e oggi chiaramente è un po' in difficoltà, ma questo è normale, così come è in difficoltà il Frosinone, o l'Empoli o tutte le squadre, il Salernitano, tutte le squadre che chiaramente hanno l'obiettivo salvezza. Penso che possa raggiungere la salvezza, sarà una bella lotta, perché comunque anche il Verona adesso ha ripreso quota, è stata tirata dentro il Sassuolo che sta vivendo un momento di assoluta difficoltà, e quindi è una lotta per la salvezza molto serrata e secondo me comprenderà fino alla fine parecchie squadre. Ecco, dicevi del Verona che è il Reduce da una bella vittoria con il Sassuolo. Grande lavoro fino a questo momento da parte di Baroni, che si è visto smontare la squadra a gennaio. Sì, diciamo che forse Baroni è l'allenatore che ha trovato più difficoltà per via delle vicende societarie che hanno portato allo smantellamento della squadra. Lavorare in quelle condizioni non è facile per nessuno e devo dire che lui è riuscito a mantenere la barra dritta, quindi sta ottenendo dei risultati isperati e qualora dovessero raggiungere la salvezza veramente sarebbe un capolavoro. Per quanto riguarda il Sassuolo, l'infortunio di Berardi rende ancora più complicata la strada verso la salvezza. È incredibile, è sfortunato questo ragazzo, anche perché l'infortunio al tennis di Achillo purtroppo è un brutto infortunio e privarsi di un giocatore come lui che sposta gli equilibri per il Sassuolo sarà molto difficile per il Sassuolo. È una squadra che a me dispiace per quello che è successo anche a Dionisi perché sembrava la squadra come tutti gli anni potesse raggiungere quella tranquillità che ha sempre poi raggiunto con il gioco, con quello che comunque è stato programmato dalla società. Devo dire che molte partite sono state perse per errori individuali, cioè errori ma veramente grossolani e questo adesso sta portando grossa paura all'interno dello spogliatoio. Si vede che i ragazzi non giocano più tranquilli perché quando provano a fare il gioco dal basso così come hanno sempre fatto fanno degli errori veramente pacchiani. Eh sì, l'abbiamo visto in particolare con il Napoli ma anche nella partita contro il Verona l'errore di Matteo Senri che ha di fatto consegnato la vittoria al Verona. Alessandro, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata. Sicurati, grazie a voi. Grazie a voi. Buona serata a tutti. E diamo adesso il benvenuto a Luciano Marangon. Ciao Luciano, ben ritrovato. Ciao Alessandro, buongiorno a te e i tuoi ascoltatori. Parliamo subito dell'Inter, ormai avviata a conquistare lo scudetto. È più forte del Napoli dell'anno scorso secondo te per come ha giocato, per la bellezza anche che ha trasmesso? No, gioca bene, però sicuramente è molto più aiutata del Napoli l'anno scorso perché tipo il calcio di rigore che gli hanno dato è una cosa completamente assurda. Io posso capire se non c'era il VAR l'arbitro per anni hanno fatto i loro errori perché sono degli esseri umani e quindi è normale che possano fare degli errori. Ma quando c'è il VAR che ti mostra non una ma più volte l'azione non puoi dare un calcio di rigore inesistente. Comunque, a parte questo perché io sono un appassionato e un tifoso del calcio quindi non patteggio né per il Genova né per l'Inter né per altre squadre in particolare. Però si conferma il momento quantomeno difficile degli arbitri. Sì, gli arbitri sono completamente da ricambiare quello che può essere la formula perché ne stanno combinando una più di Bertoglio come si diceva ai miei tempi. Però, a parte quello l'Inter è una squadra che ha dimostrato in tutto l'arco perché non si può guardare degli episodi in tutto l'arco del campionato fino ad oggi di essere la squadra più forte. Subito, subito a ruota ci va il Bologna. Ci metto il Bologna dal mio punto di vista. Sì. E invece il Napoli a tuo parere che tipo di rilancio potrà avere con Calzona si è ritrovato secondo te che spazi ci sono per una grande risalita in classifica? Ma una grande risalita non lo so dipende sempre da come vanno le altre che gli stanno avanti. Sì, questo allenatore c'era già stato perché è stato secondo di Spalletti secondo di Sarri quindi conosceva l'ambiente conosceva i giocatori e mi meraviglio mi meraviglio come una società non ci abbia pensato prima di prendere Garzia a un allenatore che comunque perché dopo uno scudetto una nata come quella di Spalletti sarebbe stato difficilissimo per chiunque per chiunque per chiunque e quindi dal mio punto di vista è una scelta che avrebbero dovuto fare fin dall'inizio però al di là di questo direi che sì, sono felice sono contento che la squadra era quella non si capiva come mai non si trovavano più però appunto conoscendo l'ambiente conoscendo i giocatori personalmente il carattere questo allenatore nuovo li ha portati li ha ritrovato ritirato fuori la fiducia dei propri mezzi dal mio punto di vista e questo è molto importante perché la forza del giocatore l'avevano dimostrato a parte l'anno scorso che sono stati perfetti in tutta l'annata tutta l'annata senti invece spostandoci a parlare della Juventus naturalmente uno dei temi predominanti in questo momento è il futuro dei Allegri secondo te i bianconeri fanno bene ad andare avanti con lui nella prossima stagione o è arrivato il momento di cambiare? Ma credo che una società come la Juventus sappia fare i propri calcoli è una società seria difficilmente esonera un allenatore anche perché a mio punto di vista Allegri come secondo posto sta facendo più che bene ma più che bene con la squadra che ha in mano io ho visto anche la partita ultima con Napoli meritava ampiamente di vincere hanno sbagliato dei gol fatti e quindi però hanno fatto un'ottima prestazione e avrebbero meritato molto molto di più però il calcio è questo il calcio alla fine chi paga l'allenatore se non porti i risultati il risultato loro della società era quello io mi ricordo che leggevo all'inizio di entrare nella zona Champions e sta mantenendo questo risultato questo obiettivo Allegri quindi non lo so non credo almeno che non abbiano sai ci sono degli allenatori come Zidane come Conte certo ci sono degli allenatori importanti da Juventus che sono liberi e quindi non vorrei mai che 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 la società avesse già fatto delle altre scelte però lui non sta sbagliando lui sta mantenendo anzi più del previsto gli obiettivi che gli aveva dato la società a proposito dei allenatori la situazione di Pioli vertici del Milan non sono contenti l'impressione che deciderà tutto Ibraimovic a cui sono state delegate le funzioni le mansioni tecniche sì è la solita solfa la chiamo io cioè nel senso che le squadre così ambiziose così importanti storicamente parlando anche puoi vincere uno due tre dieci scudetti anche di seguito ma l'annata che vai male viene messo in discussione l'allenatore è sempre stato così e sarà sempre così quindi quindi non capisco molto bene il calcio italiano soprattutto di oggi perché una volta era un po' diversa la cosa io mi rispecchio molto nel calcio inglese che è un manager perché viene chiamato così l'allenatore cioè deve scegliere lui di andarsene perché non lo mandano via neanche se retrocede una squadra quindi la serietà di una società si vede anche in questo in Italia il calcio ha completamente altre direzioni quindi non mi meraviglio che possa essere cambiato o possa essere in discussione anche se dal mio punto di vista sta facendo bene domani invece in Europa League l'Atalanta affronta lo sporting in Portogallo squadra di Gasperini che in campionato ha rallentato un po' ultimamente beh c'è sempre c'è sempre per questo tipo di squadre ma c'è anche per le squadre di vertice il momento di crisi durante un campionato l'Atalanta lo sta vivendo l'ha vissuto forse nelle partite meno opportune speriamo che domani non sia così che 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 trovi che trovi quella qualità quella qualità e quella forza e quel carattere che ha dimostrato nelle nelle prime 30-25 partite 30 partite io me lo auguro molto perché è un nome è una società ormai che si è stabilizzata lì a questi livelli e sono felice e sono contento che ci sia anche perché conosco Gasperini è un allenatore che merita che merita che merita che merita certi traguardi quindi dal mio punto di vista farà bene farà bene anche perché si esce dal campionato in Europa le squadre italiane che ci sono hanno dimostrato di essere all'altezza all'altezza della competizione eh sì assolutamente per quanto riguarda Gasperini vale il discorso della grande continuità che è riuscito a dimostrare con l'Atalanta anche con giocatori che sono stati cambiati nel corso degli anni nel corso della sua esperienza in Bergamasco certo no anche perché è un po' la politica di quelle società così come ci può essere il Bologna la Fiorentina cioè puntano su giovani interessanti anche poco conosciuti li valorizzano li portano a poter a poter rambire e poi arrivano le squadre più poderose anche a livello economico e te li portano via questo ma questa è una legge un po' del calcio d'oggi un po' la legge del mercato quindi è giusto che l'Atalanta faccia questa politica e la faccia bene come la sta facendo e Gasperini prima parlavi dei manager all'inglese è un esempio che ricalca un po' la Premier ricalca certe squadre della Premier che puntano a lungo per tanto tempo sul loro allenatore sì infatti io sono d'accordo e spero che un po' tutto l'ambiente del mondo del calcio italiano a livello di dirigenza di presidenza arrivi a ragionare così perché bisogna avere rispetto di professionisti che lavorano che rinunciano alla loro vita per dedicarsi alla squadra di proprietà loro e quindi come si sa nello sport si può vincere si può perdere ma l'importante è dare sempre il massimo dell'impegno e io oggi vedo allenatori giovani o meno giovani con l'esperienza o con meno esperienza che danno la loro vita per il lavoro che fanno e quindi e quindi e quindi spero che cambi un po' questa mentalità nel calcio italiano ma che cambia anche molto nei tifosi perché sono molto influenti i tifosi di ogni squadra nelle società e quindi deve cambiare un po' anche la mentalità l'hanno cambiata in Inghilterra non vedo perché non riusciamo noi che siamo un popolo più più culturalmente preparato più intelligente siamo anche più intelligenti in strada degli inglesi tu dici siamo più intelligenti l'abbiamo dimostrato nei secoli in tutti i settori quindi quindi non vedo perché nel calcio non lo dobbiamo dimostrare assolutamente assolutamente non so se saranno d'accordo completamente gli inglesi ma ne riparleremo magari un problema loro noi giochiamo per la nostra bandiera grazie a Luciano Marangonna come sempre buona serata vorrei un attimo dare un ricordo di cuore un abbraccio alla famiglia di Astori perché in questi giorni veniva proprio ieri era l'anniversario della morte veniva a mancare questo ragazzo che ha toccato la sua morte ha toccato tutti noi del mondo del calcio e non solo e quindi volevo approfittarne della tua visione per dare un saluto alla famiglia alla figlia alla moglie e ai suoi familiari giusto grazie ancora a Luciano Marangonna e siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMW News appuntamento a domani per affrontare tanti altri argomenti non mancate buona serata a tutti grazie a tutti